Compie dieci anni la Fondazione Noi Domani. Dieci anni a sostegno dell'autonomia delle persone con disabilità all'insegna di progetti realizzati a partire dalla sede pesarese di Via Sirolo. Dieci anni celebrati con una cerimonia Villa Cattani-Stuart nel percorso che Labirinto, Associazione Insieme, Aias e Fondazione hanno saputo tessere assieme a tutte le realtà territoriali del terzo settore. Oggi festeggiamo dieci anni della Fondazione Noi Domani di cui la Cooperativa Sociale Labirinto è uno dei due soci promotori e fondatori. Sono stati dieci anni molto positivi, intensi, in cui la Fondazione è evoluta sia dal punto di vista della sua struttura formale che dal punto di vista della quantità e qualità dei servizi erogati. La Fondazione si occupa principalmente di risposte abitative per persone con disabilità grave. Fin dal primo momento una delle caratteristiche prevalenti di questo progetto è stata la modalità di lavorare in rete con gli altri soggetti del terzo settore e con le istituzioni, tanto che la Fondazione stessa è nata da un percorso di coprogettazione che ha visto coinvolti i due promotori, noi e l'Associazione Insieme e le istituzioni pubbliche comunali e del comparto sanitario. Un'altra caratteristica molto importante è l'evoluzione dei servizi che ci sono stati da risposte di tipo di sollievo a risposte di tipo residenziale sia in piccoli appartamenti che in strutture di altro tipo. Sono solo dieci anni ma gli obiettivi raggiunti sono veramente tanti e ne siamo anche molto orgogliosi. Lavoriamo tantissimo per la disabilità e soprattutto per dare una casa e tanto affetto a ragazzi in comunione, in appartamenti, da soli, in inclusione. Il nostro obiettivo è proprio questo, la nostra mission è questa, una felicità, una serenità di cui comunque hanno diritto per il loro futuro. Ogni genitore la cerca, ogni genitore la vuole, ogni ragazzo ne ha diritto. Sono presidente dell'Associazione Insieme, un'associazione nata nel 1998 da un gruppo di genitori di ragazzi disabili, gravi, anche gravissimi, che hanno fatto questa iniziativa di fare questa associazione e siamo conosciuti anche sul territorio. Abbiamo vari progetti da cui un servizio chiamato Servizio Incontro che è un servizio pomeridiano per i nostri ragazzi che sono un 7-8 ragazzi e che vivono nel pomeriggio nella città perché ci piace anche questa inclusione nel nostro territorio. In più, dopo di quello, è nata Prove di Volo insieme alla fondazione perché abbiamo poi costituito la fondazione, noi domani, a cui abbiamo creduto e oggi le cose, insomma, vedo che riusciamo a farle quelle più importanti per i nostri figli, anche perché poi io, avendo una figlia disabile, l'ho già fatta crescere, diventare grande, come poi vuole la fondazione, come noi abbiamo sempre pensato, noi genitori, a questo perché abbiamo sempre comprogettato. Chiediamo di essere il più possibile sostenuti in questi progetti. Venite in fondazione a visitarci e a chiederci come chiunque può aiutarci. Abbiamo bisogno di tutti voi. Insieme si diventa molto più grandi.